Il saldo è 13.000, vuol dire che se ne vanno più o meno 1.000 all'anno, un numero che è crescente nel tempo ed è crescente anche la quota di laureati. Il Friuli Venezia Giulia perde 1.000 giovani all'anno, tra i 18 e i 34 anni, attratti da prospettive lavorative migliori o situazioni di vita più gradite all'estero. Non è esagerato definirla fuga di cervelli, perché l'esodo dei laureati in regione segna la percentuale più alta in Italia, il 51%. Tuttavia va rilevato che anche tanti giovani che non hanno finito gli studi o che hanno solo il diploma di scuola superiore decidono di andare all'estero per cercare fortuna, ma anche e soprattutto per trovare migliori condizioni non solo lavorative ma anche di vita. Il ritorno nel paese d'origine avviene in pochissimi casi perché qui non ci sono le stesse condizioni di vita o di carriera e così, pur amando profondamente la terra d'origine, i giovani friulani nel mondo non rientrano. Ho trovato opportunità, che è una parola che si sente spesso quando si parla dell'estero, ho trovato ambienti magari un po' più aperti anche al fatto che le donne abbiano opportunità importanti per gestire le proprie ricerche, per decidere il proprio futuro e le cose che pensano siano importanti dal punto di vista della ricerca. Io credo che Lussemburgo sia un paese per le famiglie. I bambini sono tutelati veramente dalla loro nascita fino al completamento degli studi universitari e oltre. Noi famiglie siamo supportati con appunto scuole e post scuola che aiutano i genitori a lavorare anche fino alle 6, 7, 8 di sera. Sono cresciuto qua a Udine, i miei genitori mi hanno sempre insegnato, ah è un colloquio di lavoro, l'ultima cosa di cui si parla sono i soldi e se non la tirerà fuori il datore di lavoro tu non menzionarla. Quando ricevo le chiamate, ancora ne ricevo per lavorare in multinazionali anche se sono indipendente ormai, la prima cosa che mi dicono, ah c'è questa posizione libera, sei interessato, sì o no, se dico sì, quali sono le tue aspettative di stipendio? E la seconda domanda, è un cambio di mentalità totale, non si va neanche avanti se non c'è questo cosiddetto match tra domanda e offerta?